Sulla riserva del Borsacchio abbiamo sentito tante voci e ne aggiungiamo un'altra, quella del segretario nazionale di rifondazione comunista Maurizio Acerbo che all'epoca fu uno dei promotori proprio della legge che ha istituito la riserva del Borsacchio. Qual è il suo parere? Ma io rivendico che come rifondazione comunista nel 2004 presentammo la proposta di legge a firma del nostro consigliere di allora Angelo Orlando, io ero segretario regionale ma elaborata sulla base di anni e anni di studi e relazioni di università esperti di livello nazionale. Ora che venga cancellata, azzerata per aprire la strada la speculazione di Lizia mi sembra gravissimo, è gravissimo che a questa iniziativa della destra non sia corrisposta all'opposizione, nessuno si è alzato in aula per dire no all'azzeramento della riserva per chiedere conto, l'emendamento è passato liscio, addirittura il PD si è astenuto. E' una cosa gravissima, il consiglio regionale può ancora porre riparo e quindi adesso le opposizioni che si sono svegliate dopo la protesta popolare hanno depositato la proposta da votare. C'è l'ultimo consiglio, io credo che Marsiglio abbia il dovere di restituire alla riserva la sua interezza, voglio ricordare che siamo passati da 1100 ettari a 24 ettari. Io dico solo una cosa, che se non lo farà il consiglio regionale ci penseremo noi dal basso, li porteremo davanti alla Corte Costituzionale. Prima di fare brutta figura, Marsiglio è meglio che cancelli la porcata che hanno fatto alle due e mezza di notte.